Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Allora, nel video di oggi vi dirò come non aver paura del vaccino. Lo so, ovviamente, si sa, il vaccino non è obbligatorio farlo. Premetto che io non sono né pro né contro, quindi non mi sentirete mai dire assolutamente fatevi il vaccino se no non usciamo mai e neanche mi sentirete dire no, non fate il vaccino che è pericoloso. Io sono stata costretta a farlo perché altrimenti non potevo né andare dal mio ragazzo perché non ho la patente e né ovviamente ricominciare con la pittura. Però chiaramente ognuno della sua vita fa quello che vuole. Io non giudico nessuno, proprio non mi piace giudicare a me. Però se c'è qualcuno che magari è costretto a farlo ma ha paura perché magari sente troppe cose in giro, troppe voci, io vi dirò alcune cose, alcuni consigli, vi darò alcuni consigli su come non aver paura. Allora, spette volte noi sentiamo ragazza morta dopo la seconda dose, ragazza morta dopo la prima. Ovviamente, si sa, no, questa cosa la fanno anche per creare terrorismo. Io non dico che i morti non ci stanno, ci stanno. Però così come si può morire di vaccino, io lo ammetto che si può morire, non voglio essere una, ma no, il vaccino fa bene, no. Si può morire, però si può morire di impatto, si può morire di parto, si può morire di incidente, si può morire di tutto. Come si dice, la morte vuole la scusa. Però non mi risulta che le donne, siccome sentono che magari si può morire di parto, non mettono al mondo i figli. Poi ogni cosa, diciamo, ha le sue conseguenze, mettiamola così. Con questo dove vuole arrivare? Che alla fine tu hai affatti anche un semplice vaccino anti-influenzale, c'hai una reazione allergica e te ne vai. E purtroppo è la vita fatta così. Uno spera sempre di andarsene il più tardi possibile e va bene. Poi è chiaro che questo tipo di vaccino, lo ammetto, lo ammetto, ci sono delle cose che fanno male, mettiamola così. Io non sono un medico, non voglio essere, diciamo, un medico, il medico della situazione, perché non è il mio compito. Però io ho sentito che, per esempio, questo tipo di vaccino, se hai dei problemi al cuore, è sconsigliato. Sconsigliato perché ti crea dei problemi. Che se sei sano non ti succede niente. Al limite puoi uscirne, come è successo a me, che mi viene la febbre e finisce là. Però se c'hai dei problemi al cuore, rischi appunto l'impatto e l'impatto porta alla morte. Un trucco, diciamo, per non avere, diciamo, paura, la paura di vaccino, è questo, ragazzi. Allora, praticamente, come, diciamo, sapete, si può morire di tutto. Quindi dovete andare lì con la consapevolezza che perché proprio a voi deve capitare, visto che la maggior parte dell'azienda col vaccino sta bene. Punto primo. Punto secondo. Punto pensare che magari se lo fate per voi stessi o se lo fate perché magari il lavoro che voi fate ve lo impone, dovete appunto pensare che dopo aver fatto quello sarete liberi comunque di fare quello che facevate prima di questa pandemia. E purtroppo questa pandemia, ammettiamolo, ragazzi, ci ha fermato. Poi quando andate lì, io vi consiglio prima di tutto, se soffrite di ansia e stacco di panico, ditelo. Perché in quel caso sarà permesso portarvi un accompagnatore dentro, proprio dentro. Lo so perché a me è successo. Cioè io ho detto, soffro di ansia e stacchi di panico, mia madre l'hanno fatta venire con me. Mia sorella, che non l'ha detto, è dovuta andare da sola, se l'ha dovuta vedere da sola lei. Quindi è chiaro che se dite una cosa del genere, non entrare diciamo con l'accompagnatore. Perché magari loro, tra virgolette, non si vogliono manco assumere la responsabilità. Quindi è chiaro che se stai male, hai comunque bisogno di un tuo familiare vicino, non di uno sconosciuto, che può essere anche il migliore di questo mondo, non lo metti in dubbio, ma è forse sempre uno sconosciuto. Invece ho bisogno proprio di un parente, di una persona che appunto ci sta insieme sempre, 24 ore su 24, quindi va bene, chiaramente. Poi, una cosa che dovete fare, dite tutto, tutto. Quando entrate e vi fanno compilare i moduli, dite tutto. Se avete avuto una malattia in passato, se adesso siete guariti, ditela. Perché in base a quello vi scelgono il vaccino adatto a voi. Sapete quanta gente si è sentita letteralmente male, perché magari in passato, che ne so, aveva avuto il cancro, guarito, però non l'ha detto. Allora gli hanno fatto un vaccino diverso e è stata male questa persona. Io invece ho detto tutto. Io anni fa ho avuto la mononucleosi, l'ho detta. Ho detto che soffro di anemia, ho detto anche che soffro di anzi e stacchi di panico. Comunque portatevi dall'alanzia e stacchi di panico con il vaccino, se è una questione psicologica. Bene, il medico deve sapere anche quello. Infatti il ragazzo che mi ha accolto, ma ha detto il medico deve sapere tutto, tutto. Appunto perché un vaccino, sì, si sa, stanno ancora sperimentando, non è proprio un vero vaccino. Però spero che faccia effetto. Almeno questo. Poi, il consiglio che vi do. Se siete in ansia, portatevi le cuffiette e ascoltate della buona musica. O perlomeno fate come ho fatto io. Vedete qualche serie che vi piace. Perché tanto comunque lì l'attesa è lunga. Cioè lì ci sta una bella fila piena di persone che devono vaccinarsi. Quindi praticamente non è che andate e fate. No, non funziona così purtroppo. E una volta che entrate nello studio medico, ditelo al dottore che vi capita, che soffrite per esempio di paura, che siete agofobici, che soffrite di ansia e attacchi di panico. Il medico è compito suo anche mettervi a vostro agio. Perché a me è successo. A me per esempio l'ultima dottoressa che mi ha fatto la seconda dose, praticamente, lei, lei ha detto guarda sei tranquilla, vedi i cartoni animati, intanto parliamo, come se fossimo due amiche. Mi ha chiesto per esempio cosa mi piace dipingere, cos'è così. E io non ho sentito niente. E senza cosa pure il dottore, che mi ha fatto la prima iniezione proprio, ma ha messo a mio agio. Mi ha detto adesso tranquilla che sei solo avendo un attacco di panico, togli la mascherina, mettiti il stesalettino. Cioè mi hanno fatto stare tranquilla. Quindi è il loro compito far stare tranquilli le persone che magari hanno l'ansia o che magari sono in dubbio, se farsi o non farsi il vaccino. Quindi è il loro compito fare il coaching. Ragazzi, per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video.